I laboratori della sede retina di Cloud Italia, ex Eutelia, sono in allarme per il loro posto di lavoro, inteso come luogo fisico dove lavorano, dal momento che l'immobile di via Calamandrei è andato all'asta dopo il fallimento della società titolare. Irideos, nuova proprietaria di Cloud Italia, nell'incontro dello scorso aprile aveva manifestato un non interesse ad acquisizioni immobiliari e a richiesta delle organizzazioni sindacali si era impegnata a rinnovare il contratto di affitto per un anno e allo stesso tempo, ricorda una nota dei sindacati entro questo mese di settembre a dare ulteriori informazioni ai dipendenti nell'incontro che si svolgerà a breve. Lavoratori e sindacati, annunciano Salvatore D'Amico Paolo Galastri e Barbara Bussotti, rispettivamente di CGL e Cisle Will, chiedono alla nuova proprietà una decisione che mantenga e salvaguardi il sito produttivo nella sua interezza occupazionale. I dipendenti nell'ultima assemblea sindacale hanno deciso di portare all'attenzione delle istituzioni sia territoriali che regionali il rischio di una delocalizzazione che impoverirebbe ulteriormente il territorio agritino, riproponendo per questi lavoratori il fantasma di uno spostamento che per molti di loro risulterebbe penalizzante se non impossibile.